. 14.18 . Eh! Che è successo? Eh! S'è successo da un signore e dopo la pizza dovevo stare alla carne.. .. gli scordi hanno miscunato tutte le cose che eranoCamer e devo prendere la roba per .. lui è vero che vieni da il sabato. Perché te lo vieni da un via, signore? Eh non ci chiama. Ammi cammà da cammà cammà. Eeeh, adam l'ibu fa ci vuoi. Eeeh, che premo, è abulanza per iall'acqua. No, non buoni abulanza. Abulanza per iall'acqua. Cammà, diremmo che c'è la compagnia uscita. Ehm, per che cosa vuoi? Adam l'abbravo, eeeh, adam l'ibu. Signore, vuoi non aprire il peggio da l'acqua non vuoi? No, signore, non c'è un gabinato, non c'è un gabinato, non c'è un gabinato. Ehi, signore, ma che mi serve per voi? Non c'è mi serve, mi serve senza sanitaria. Eeeh, 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 che sanitaria esiste? Non vuoi quella da su? Si stanno in... Signore, noi siamo emergenza sanitaria. Non ne guardammo i cesso, guardammo i cristiani. Si, ma io non voglio quello a due feste mio. Eh? Adicò io non voglio quello a due feste mio. Signore, forse non mi sono spiegato. Noi siamo emergenza sanitaria. Eeeh, andiamo che stanno in emergenza urgente, perchè non mi ha preso la signora, che non ha preso la signora, che non ha preso la signora Non ha preso la signora, con lo che ha preso la signora Non ce l'ha preso la signora? Si nghe, niente.... Signore, non ha preso la signora. Non lo vanno a preso la signora, che non ha preso la signora? Oparty, io devo, eeeh, che le ho preso la signora. Signore, avete preso la signora, che li ha preso la signora? Signore, avete spiegato il film, io. Noi ne facουμε questi soldi. E' chi? Cosa ma questa è l'osa? La signora è l'osa? La signora non vuole 13? Grazie.